Gli insegnamenti di tutti i maestri sulla legge di attrazione e di assunzione per cambiare la propria realtà. Ormai la gente si sta risvegliando e tutti compreso tu hai capito che questo mondo è fittizio e che dentro di noi ci sono poteri speciali, segreti nascosti che dobbiamo imparare a far emergere. Tutti i maestri della storia antica erano al corrente di questi segreti potenti ed hanno sviluppato le loro metafore e i loro metodi per comunicare con noi la tecnica segreta che avevano scoperto. Oggi con YouTube siamo sommersi di video e questo genera moltissimo caos perché non riusciamo a capire quale tipo di tecnica usare, anche se alla fine le tecniche sono le stesse ed il metodo di insegnamento cambia, ma questo ci permette di apprendere pillole di saggezza da ognuno dei maestri. Molti applicano queste tecniche e dimostrano che la loro vita è cambiata anche moltissimo YouTube ammettono di aver usato tecniche segrete per cambiare la propria realtà. Tra gli italiani abbiamo ad esempio Dr. Klapis che con il suo vlog Chiocciola Senza Maschere ha spiegato più volte come è riuscito ad ottenere successo. Le tecniche abbondano, ora facciamo una carrellata di tutti i metodi e tecniche segreti esistenti. Prima di invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella, e se vuoi ricevere un messaggio di risposta personalizzato scrivi nei commenti che ti sei iscritto al canale, ti risponderemo al 100% per ringraziarti. Tutte le tecniche manifestative di tutti i maestri noti e non. Connie Mendez è stata una famosa autrice e insegnante spirituale venezuelana nota per il suo libro Metafisica 4 in 1, che ha condiviso insegnamenti sulla legge dell'attrazione e sul potere della mente nel manifestare i desideri. Se desideri seguire il suo metodo per realizzare i desideri, ecco alcuni passi chiave. Affermazioni positive Connie Mendez credeva fermamente nelle affermazioni positive. Questo significa che dovresti affermare i tuoi desideri in modo positivo e presente come se fossero già realizzati. Ad esempio, anziché dire vorrei avere successo, diresti ho successo. Visualizzazione La visualizzazione è una parte importante del processo di manifestazione. Visualizza chiaramente il tuo desiderio come se fosse già realizzato. Immagina tutti i dettagli, le sensazioni e le emozioni associate al raggiungimento del tuo obiettivo. Fede e convinzione Connie Mendez enfatizzava la fede e la convinzione come elementi chiave per realizzare i desideri. Devi credere sinceramente che il tuo desiderio si realizzerà. Rilascio dell'attaccamento, non essere troppo attaccato al risultato. La paura o l'ansia riguardo al risultato possono ostacolare il processo di manifestazione. Lascia andare il bisogno disperato e abbi fiducia nel processo. Pensiero positivo costante Mantieni pensieri positivi costanti riguardo al tuo desiderio. Evita di dubitare o di concentrarti sui tuoi fallimenti passati. Mantieni un atteggiamento positivo e fiducioso. Ringraziamento Ringrazia l'universo o la tua fonte spirituale per il raggiungimento del tuo desiderio, anche prima che si realizzi. Questo mostra gratitudine e apre la porta per ricevere ciò che desideri. Azioni concrete Non limitarti solo a pensare positivamente, ma prendi anche azioni concrete per avvicinarti al tuo obiettivo. Lavora verso il tuo desiderio con passione e determinazione. Pazienza La manifestazione dei desideri potrebbe richiedere del tempo. Mantieni la pazienza e la fiducia mentre lavori verso il tuo obiettivo. Cerchia sociale positiva Cerca di circondarti di persone che ti sostengono e che hanno una mentalità positiva. L'energia delle persone intorno a te può influenzare il tuo processo di manifestazione. Meditazione e preghiera La meditazione e la preghiera possono aiutarti a rafforzare la tua connessione spirituale e a mantenere una mente calma e concentrata. Nikola Tesla è stato un inventore e scienziato noto per le sue innovazioni nel campo dell'elettricità e della tecnologia. Sebbene non sia noto per un metodo specifico per realizzare i desideri nel senso tradizionale, ha condiviso alcune idee e filosofie di vita che possono essere interpretate come un approccio alla realizzazione dei desideri. Mentalità positiva Tesla credeva fermamente nell'importanza di avere una mentalità positiva. Credeva che il pensiero positivo potesse influenzare la tua vita e il tuo ambiente in modi potenti. Visualizzazione creativa Tesla era noto per la sua capacità di visualizzare chiaramente le sue invenzioni nella mente prima di crearle fisicamente. Questa tecnica di visualizzazione creativa è una parte essenziale del processo di innovazione e potrebbe essere interpretata come una forma di manifestazione dei desideri. Concentrazione profonda Tesla era noto per la sua straordinaria capacità di concentrazione e di lavoro intensivo. Mantenere un focus profondo su un obiettivo desiderato è essenziale per realizzare i desideri. Esperimenti e lavoro incessante Tesla passava gran parte del suo tempo a fare esperimenti e a lavorare incessantemente sui suoi progetti. Era noto per la sua dedizione assoluta ai suoi obiettivi, e questa determinazione è un aspetto chiave nel cercare di realizzare i desideri. Mente aperta all'ispirazione Tesla sosteneva l'importanza di rimanere aperti all'ispirazione e alle intuizioni. Era noto per ricevere idee illuminate o ispirate e che lo aiutavano nei suoi progetti. Studio e conoscenza Tesla era un grande studioso e aveva una vasta conoscenza in molti campi scientifici. L'acquisizione di conoscenza e l'apprendimento continuo possono aiutare a sviluppare abilità e competenze necessarie per realizzare i desideri. Persistenza Tesla affrontò molte sfide nella sua vita, ma la sua persistenza nel perseguire i suoi obiettivi era notevole. La determinazione e la resilienza sono importanti nell'affrontare gli ostacoli lungo il cammino verso la realizzazione dei desideri. La legge di assunzione è una delle concezioni chiave insegnate da Neville Goddard, un noto autore e insegnante spirituale del movimento del nuovo pensiero. Questa legge si basa sulla convinzione che l'assunzione di un fatto o di un desiderio come già realizzato è la chiave per manifestare ciò che si desidera nella propria vita. Ecco una descrizione della legge di assunzione secondo la filosofia di Neville Goddard. Immaginazione creativa Neville Goddard credeva che l'immaginazione fosse la chiave per manifestare i desideri. Egli affermava che l'immaginazione è divina e che attraverso di essa possiamo creare la nostra realtà. Assumere come vero La legge di assunzione si basa sulla convinzione che dovresti assumere il tuo desiderio come già realizzato. Questo significa che dovresti immaginare la situazione o il risultato desiderato come se fosse attualmente vero. Non devi solo sperare che accada, ma devi vivere e sentire l'esperienza come realtà. Stato di coscienza Goddard sosteneva che ogni stato di coscienza crea una realtà corrispondente. Quindi, se vuoi cambiare la tua realtà, devi cambiare il tuo stato di coscienza. L'assunzione di un nuovo stato di coscienza, in cui il tuo desiderio è già realizzato, è essenziale per manifestare i tuoi desideri. Fiducia e persistenza La fiducia è fondamentale nella legge di assunzione. Devi avere fiducia che il tuo desiderio si realizzerà. La persistenza nell'assumere il tuo stato desiderato, anche quando le circostanze sembrano contrarie, è cruciale. Dettagli e sensazioni Quando pratichi la legge di assunzione, dovresti prestare attenzione ai dettagli e alle sensazioni. Immagina vividamente i dettagli della situazione desiderata e senti le emozioni e le sensazioni associate ad essa. Ripetizione Goddard raccomandava di ripetere l'atto di assunzione ogni giorno. Più ripeti il processo, più potente diventa la tua capacità di creare la realtà che desideri. Rilassamento e meditazione Molte delle tecniche di Goddard coinvolgono uno stato di rilassamento o meditazione, che ti aiuta a entrare più profondamente nell'immaginazione creativa e nell'assunzione. Secondo Neville Goddard, quando assumi con convinzione che il tuo desiderio sia già realizzato, l'universo risponde alla tua convinzione e ti porta verso la manifestazione fisica di ciò che hai immaginato. Questo approccio è stato influente nel campo della spiritualità e dell'autosviluppo ed è simile a concetti come la legge dell'attrazione e la visualizzazione creativa. Joseph Murphy, uno degli autori più influenti nel campo dell'autosviluppo e della spiritualità, ha sviluppato un approccio alla preghiera che chiama preghiera scientifica. Questa tecnica di preghiera è basata sulle sue interpretazioni delle leggi mentali e spirituali che governano la nostra realtà. Ecco una descrizione della preghiera scientifica di Joseph Murphy. Preghiera come comunicazione con la mente universale Joseph Murphy credeva che la preghiera fosse una forma di comunicazione con la mente universale o con l'intelligenza divina che permea l'universo. Credeva che questa mente universale fosse responsiva ai pensieri e alle parole umane. Chiarezza dell'intenzione Nella preghiera scientifica, è essenziale avere un'intenzione chiara e definita. Devi sapere esattamente ciò che desideri e formulare la tua preghiera in modo specifico e positivo. Eliminazione dei dubbi e delle paure La preghiera scientifica richiede che tu elimini dubbi e paure dalla tua mente. Devi avere fede che la tua preghiera sarà esaudita e non permettere a pensieri negativi o dubbi di indebolire la tua richiesta. Stato di rilassamento Prima di iniziare la preghiera scientifica, Murphy consigliava di raggiungere uno stato di rilassamento profondo. Questo aiuta a calmare la mente e a creare una connessione più forte con la mente universale. Ripetizione Joseph Murphy enfatizzava l'importanza della ripetizione nella preghiera scientifica. Ripeti la tua richiesta o affermazione più volte al giorno. Questo aiuta a rinforzare la tua intenzione e a mantenerla in primo piano nella tua mente. Usare il presente Nella preghiera scientifica, devi usare il tempo presente, come se il tuo desiderio fosse già stato realizzato. Ad esempio, invece di dire voglio guarire, dirai e sono guarito. Immagine mentale chiara Visualizza chiaramente il risultato desiderato nella tua mente. Immagina tutti i dettagli e le sensazioni associate a ciò che stai pregando per ottenere. Ringraziamento anticipato Ringrazia anticipatamente la mente universale o Dio per aver esaudito la tua preghiera. Manifesta gratitudine come se il tuo desiderio fosse già stato realizzato. Fede costante Mantieni una fede costante nella tua preghiera. Non permettere a dubbi o paure di minare la tua convinzione che il tuo desiderio si realizzerà. La preghiera scientifica di Joseph Murphy si basa sulla convinzione che la mente umana abbia un potere significativo nella creazione della realtà e che, attraverso la fede, l'immaginazione e la comunicazione con l'intelligenza divina, si possano realizzare i desideri e raggiungere il successo e la felicità. Questa tecnica è simile a concetti come la legge dell'attrazione e la visualizzazione creativa. Katrin Ponder è una nota autrice di libri di autosviluppo e spiritualità che ha scritto ampiamente sulla legge di attrazione. La sua interpretazione della legge di attrazione si basa sulla convinzione che i pensieri e le emozioni delle persone siano fondamentali per creare la loro realtà e attirare esperienze positive nella loro vita. Ecco una descrizione della legge di attrazione secondo Katrin Ponder. Pensiero positivo, Katrin Ponder sottolinea l'importanza di coltivare pensieri positivi e ottimisti. Crede che i pensieri siano energie creative e che ciò in cui una persona pensa costantemente si manifesti nella sua vita. Affermazioni, una parte significativa del lavoro di Katrin Ponder riguarda l'uso di affermazioni positive. Le affermazioni sono dichiarazioni brevi e potenti che esprimono desideri o obiettivi come se fossero già realizzati. Ripetere affermazioni quotidiane può contribuire a modificare il pensiero e le credenze. Visualizzazione creativa Katrin Ponder incoraggia l'uso della visualizzazione creativa, che consiste nell'immaginare chiaramente il risultato desiderato. Visualizzare dettagliatamente ciò che si vuole attirare nella propria vita può intensificare il processo di manifestazione. Fede e aspettativa La fede è fondamentale secondo Ponder Bisogna credere sinceramente che ciò che si desidera sia possibile e si realizzerà. L'aspettativa positiva, l'attesa fiduciosa che il desiderio si manifesti, è altrettanto importante. Ringraziamento La gratitudine è una parte essenziale della legge di attrazione secondo Katrin Ponder. Ringraziare anticipatamente per ciò che si desidera attirare nella propria vita crea una vibrazione positiva e apre la strada per ricevere. Rilascio e fiducia nell'universo Katrin Ponder insegna anche l'importanza di rilasciare il bisogno disperato e la preoccupazione riguardo al come e al quando il desiderio si realizzerà. Bisogna avere fiducia nell'universo e lasciare che si occupi dei dettagli. Parola e pensiero creativi Ponder sostiene che la parola e il pensiero abbiano il potere di creare. Quindi, è importante scegliere le parole con attenzione e mantenere pensieri positivi e costruttivi. Concentrazione e focalizzazione Concentrarsi su ciò che si desidera con determinazione è un altro aspetto chiave. Evitare distrazioni e mantenersi concentrati sul proprio obiettivo aiuta a manifestare i desideri. Katrin Ponder ha scritto diversi libri sul tema della legge di attrazione, offrendo consigli pratici su come applicare questi principi nella vita quotidiana per attirare prosperità, salute, relazioni positive e successo. La sua interpretazione della legge di attrazione è stata influente nella comunità dell'autosviluppo e della spiritualità. Florence Scovelshin è stata un'autrice e insegnante spirituale del XX secolo, nota per i suoi scritti sulla legge dell'attrazione e la spiritualità pratica. Sebbene non abbia specificamente parlato di una tecnica segreta, ha condiviso diversi principi e metodi per migliorare la vita attraverso la mentalità e la fede. Uno dei concetti chiave che ha insegnato è la parola parlata. Ecco una descrizione della tecnica della parola parlata di Florence Scovelshin. Affermazioni potenti La parola parlata di Scovelshin si basa sull'uso di affermazioni potenti e positive per cambiare il pensiero e le credenze. Credere che le parole abbiano potere creativo, Florence ha enfatizzato l'importanza di utilizzare affermazioni che esprimano ciò che si desidera come se fosse già realizzato. Ad esempio, se si cerca prosperità finanziaria, si può affermare, sono prospero e la prosperità fluisce nella mia vita. Fede e convinzione Perché le affermazioni abbiano un effetto, Scovelshin sosteneva che dovessero essere fatte con fede e convinzione. Dovevi credere sinceramente che ciò che dicevi nelle affermazioni si stesse già realizzando nella tua vita. La fiducia era fondamentale. Ripetizione Ripetere regolarmente le affermazioni era un altro aspetto importante. Più spesso ripeti le affermazioni, più diventano parte del tuo pensiero subconscio e influenzano le tue credenze. Visualizzazione Florence Scovelshin credeva anche nella visualizzazione. Visualizzare chiaramente il risultato desiderato mentre si facevano le affermazioni aumentava il loro potere. Rilascio del controllo Un altro aspetto della tecnica della parola parlata era il rilascio del controllo. Dopo aver fatto le affermazioni e visualizzato, dovevi fidarti dell'universo e lasciare che agisse per realizzare il tuo desiderio. Ringraziamento anticipato Florence sosteneva anche il ringraziamento anticipato. Dovevi ringraziare con gratitudine come se il tuo desiderio fosse già realizzato, creando una vibrazione positiva. La tecnica della parola parlata di Florence Scovelshin era una combinazione di affermazioni potenti, fede, visualizzazione, ripetizione e rilascio. Questi principi si basavano sulla convinzione che la mente umana avesse il potere di influenzare la realtà e che attraverso una mentalità positiva e la fede si potesse attirare nella vita ciò che si desidera. Questa tecnica è stata influente nel campo dell'autosviluppo e della spiritualità. Wallace D. Wattles è l'autore del libro La scienza di diventare ricchi, un testo classico nel campo dell'autosviluppo e della crescita personale. Nella sua opera, Wattles non si riferisce esplicitamente a una tecnica segreta, ma piuttosto presenta un approccio olistico e filosofico per raggiungere la ricchezza e il successo attraverso un cambiamento di mentalità e azioni. Ecco un riassunto delle principali idee e pratiche presentate da Wattles. La visione chiara del desiderio, Wattles sottolinea l'importanza di avere una visione chiara e definita di ciò che si desidera raggiungere. Questo desiderio deve essere specifico e ben definito. La fede incondizionata, Wattles crede che sia essenziale avere una fede incondizionata nel proprio desiderio e nella propria capacità di realizzarlo. La fede è fondamentale per attirare nella propria vita ciò che si desidera. La gratitudine, l'autore enfatizza il ruolo della gratitudine nel processo di manifestazione. Dovresti essere grato per ciò che hai già e per ciò che stai per ricevere. La gratitudine crea una vibrazione positiva. L'azione deliberata, Wattles sottolinea che è necessario compiere azioni concrete e deliberare per avvicinarsi al proprio obiettivo. Queste azioni devono essere fatte con fiducia e determinazione. L'impersonalità, Wattles sostiene che dovresti rimuovere l'ego dalla tua ricerca di ricchezza e successo. L'obiettivo dovrebbe essere quello di creare valore per gli altri, poiché questo crea un ciclo virtuoso di abbondanza. La percezione dell'abbondanza, Wattles crede che tu debba sviluppare una percezione dell'abbondanza attorno a te, anziché concentrarti sulla mancanza. Questa percezione cambierà la tua mentalità e attirerà più ricchezza nella tua vita. La visualizzazione, anche se Wattles non usa esplicitamente il termine visualizzazione, suggerisce di immaginare chiaramente il risultato desiderato e di mantenerlo costantemente nella mente. La legge dell'attrazione, anche se non usa il termine legge dell'attrazione, Wattles è un precursore di questa filosofia. Crede che i tuoi pensieri e le tue emozioni attragano eventi e situazioni corrispondenti nella tua vita. La tecnica segreta di Wallace D. Wattles si basa su una combinazione di fede incondizionata, azione deliberata, gratitudine e percezione dell'abbondanza. La sua Filosofia si concentra su un cambiamento di mentalità e comportamento per creare una vita di successo e prosperità. Non si tratta tanto di una tecnica specifica quanto di un approccio generale alla vita e al successo basato sulla fiducia nella propria capacità di cambiare e attirare nella propria vita ciò che si desidera. Come vedi tutte le tecniche si assomigliano quindi possiamo dire che la vera tecnica segreta per manifestare la realtà è la fede, la fiducia, la certezza nel credere che ciò che si vuole è già realizzato, un focus costante potente quotidiano nel vivere il proprio sogno. Se hai suggerimenti scrivili con un commento, grazie per aver guardato il video e se ti è piaciuto condividilo.